Ma io sono dell'idea che sta a noi perché noi penso che siamo una squadra tosta quando siamo messi tutti con la stessa idea e andiamo forte. Quando muodiamo un attimo diventiamo una squadra normale però sicuramente non ci sarà neanche bisogno secondo me di prepararmi. Ma sì sicuramente, il Goro ci mancherà però siamo in tanti e sta a chi gioca poco ultimamente a far vedere che può giocare anche lui. Grazie per la visione!